Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi vi parliamo di Terra Amara e delle sue anticipazioni mozzafiato. Zuleia si ritrova vedova e sola, lei la eredita all'impero di suo padre. Rivelazioni esplosive sull'emozionante finale della sop'opera Terra Amara. Lei la si prepara a prendere le redini dell'impero di suo padre Demir, mentre Zuleia affronta un destino crudele. Nel tanto atteso epilogo di Terra Amara in onda su Canale 5 nel corso del 2024, colpi di scena straordinari terranno lo spettatore con il fiato sospeso, principalmente concentrati sulle vicende di Zuleia. Dopo la tragica morte di Yilmaz e Demir, Zuleia si troverà a fronteggiarne le conseguenze, e a cercare di ricostruire la sua vita. Ma il destino si accanisce contro di lei, lasciandola priva di affetti, e destinata ad una solitudine incolmabile. Focalizzandoci sul finale di Terra Amara, le anticipazioni rivelano che Zuleia cercherà di ottenere una nuova svolta alla sua esistenza, incrociando il cammino di Akan, un ricco imprenditore che conquisterà il suo cuore e la colpirà profondamente. Decideranno di unirsi in matrimonio, ma la loro felicità sarà spazzata via da un brutale assassinio, anche se la vittima doveva essere in realtà Zuleia stessa. Akan perderà la vita all'interno della sua abitazione, tra le braccia della sua donna, che dovrà affrontare la tragedia con coraggio. Così Zuleia rimarrà vedova e sola, pronta ad affrontare i giorni futuri in solitudine. Ma le sorprese non finiscono qui. Nel capitolo finale di Terra Amara, Anche i figli di Zuleia avranno un ruolo importante. Leila infatti deciderà di studiare all'estero, per poi tornare a Kukurova, e prendere in mano l'eredità lasciatale da suo padre Demir. La giovane Leila diventerà la nuova figura di spicco negli affari di famiglia, portando avanti il grande lavoro intrapreso da suo padre nel corso degli anni. Un nuovo capitolo si apre per Adnan, che prenderà una strada diversa, allontanandosi dal mondo degli affari per seguire la sua immensa passione per il cinema. Con il finale avvincente di Terra Amara, si conclude uno dei successi più apprezzati degli ultimi anni, in grado di coinvolgere sempre più spettatori nel corso del pomeriggio. Mediaset si congratula per gli straordinari ascolti ottenuti da Terra Amara durante la sua messa in onda. Le puntate di Terra Amara sono diventate una gemma preziosa nella programmazione televisiva di Canale 5, appassionando una vasta fascia di pubblico, con una media che si avvicina ai 3 milioni di spettatori al giorno, e picchi di share del 25%. E questo è tutto per oggi. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, ed iscrivetevi al canale. Grazie, a presto!